Amici di Gamesurf, bentrovati alla recensione delle cuffie True Wireless Sony WF-1000XM5. Il contrasto tra lucido e opaco dona a questi nuovi auricolari un aspetto ancora più raffinato e sofisticato rispetto ai più corposi M4, gli M5 sono più piccoli del 25% e più leggeri del 20%. Una sensazione di leggerezza che si percepisce durante l'uso facendo sentire il suono e non l'ingombro. Anche la custodia è stata ridimensionata dal 15%. Inoltre le cuffie sono certificate IPX4, refrattarie a sudore e gocce di pioggia. Il set di cuscinette auricolari in schiuma include una quarta misura extra small, oltre a small, medium e large. Gli M5 hanno 6 microfoni e 2 processori distinti che lavorano in sinergia rilevando il suono ambientale, notevole in tal senso la cancellazione del rumore con eccellente livello di isolamento. Cambio di strategia anche nella posizione dei microfoni al fine di renderli meno vulnerabili rispetto a condizioni di vento forte. La presenza del codec LEDAC favorisce un'elevata qualità sonora con la tecnologia Digital Sound Enhancement che interviene sulla compressione e la potenziale perdita di informazioni. Nelle conversazioni l'algoritmo di intelligenza artificiale della M5 riconosce e isola la voce da ogni tipo di rumore ambientale. Il sensore di conduzione ossea rileva le vibrazioni dando un'ulteriore conferma all'unità che sta realmente parlando chi li indossa. L'adaptive sound control rileva l'attività in corso quando si è per esempio fermi e circondati o meno da un ambiente caotico, così come per le attività di routine come le sportive con un diverso adeguamento in tempo reale dell'equalizzazione e gestione del suono in entrata e in uscita. L'app Sony Headphones Connect, disponibile per Android e iOS, offre varie personalizzazioni a partire dal monitoraggio dell'attività in corso come il livello del volume e la durata d'uso. Ha sorpreso in tal senso la longevità delle batterie in giornate in cui impegnare le cuffie in diversi ambiti come streaming video e audio, gaming, conversazioni o anche solo per limitare i rumori esterni, superando le 8 ore con l'ANC attivo, fino a 24 ore totali se disattivo e aggiungendo 60 minuti con soli 3 minuti di carica. Bene, anche per questa recensione è tutto, un saluto da Claudio Poffi.